Il ponte tibetano sul lago di Garga si trova vicino a Turi del Benaco, lato veneto del lago, ed è una meta ideale se si vuole fare una gita diversa anche con i bimbi. Il ponte tibetano, inaugurato ad agosto 2019, unisce la località di Pai di sopra, Concrero, in piena Val Banzana. Si tratta di un posto davvero emozionante da visitare, lungo 34 metri e poco più largo di un metro. Il ponte tibetano vicino a Turi del Benaco tocca un'altezza massima di circa 45 metri. Grazie. 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 Grazie.